Ben trovati bambini e bambine! In queste giornate di sole e caldo, che ne dite di costruire un fantastico e colorato aquilone con cui giocare all'aria aperta? Avremo bisogno di un cartoncino, dei bastoncini, dei tessuti o dei fogli di carta, delle forbici, del filo di nylon o dello sfago e del semplice nastro adesivo. Prima di tutto, ritagliate il cartoncino a forma di rombo, con la diagonale maggiore di 40 cm e quella minore di 38 cm. Successivamente, con la forma del cartoncino, ritagliate la sagoma dell'aquilone con la carta colorata col tessuto che avete scelto. Adesso, applicate il nastro adesivo agli angoli del vostro rombo, con la parte adesiva, cioè quella appiccicosa, rivolta proprio verso di voi. Poi, fissate con il nastro i bastoncini. Mi raccomando, cercate di fissarvi bene. Adesso, potete decorare il vostro aquilone come più preferite. Ad esempio, potete applicare delle strisce di carta crespa colorata ai quattro angoli o scrivere al di sopra il vostro nome. Successivamente, praticate un foro al centro del rombo, dalla parte esterna dell'aquilone, e con il filo di nylon o lo spago fissate entrambi i bastoncini e formate un nudo. Il vostro aquilone è pronto per mille nuove avventure. Personalizzatelo con i colori più svariati o decorando la carta utilizzata. Buon divertimento!